Claudio ci può spiegare in poche parole che cosa è successo ieri? Bene, ieri c'è stato un evento sismico abbastanza importante nella nostra provincia e ciò non accadeva da tanto tempo. Per spiegare un po' brevemente, sinteticamente, cosa è avvenuto, bisogna partire un po' più in grande. A quando la Terra si è formata, 4 miliardi e mezzo di anni fa, questa Terra era, raffreddandosi, si è unita in un supercontinente, 200 milioni di anni fa, che era la Pangea. E da quel tempo queste testere del mosaico, che galleggiano su un mare di lava, il mantello superiore, si stanno aprendo. Siccome la Terra è rotonda, dove due placche si allontanano, altre due si scontrano. E siccome il terremoto di ieri è stato di origine tettonica, è dovuta alla collisione dell'Africa, che con la sua massa enorme sta spingendo la zolla adriatica, e quindi anche il mare adriatico, verso est, nord-est, spingendola a colligere fra una ventina di milioni di anni con l'ex Jugoslavia, così che il mare adriatico diventerà un lago interno, chiuso, e probabilmente si estinguerà. Questo comporta che, in questo stiramento della placca africana sull'Italia, appunto si stiri, e quando due masse rocciose si incontrano, si deformano plasticamente, e una, quando l'energia non sopporta più la pressione esercitata dalla placca, una placca si stira sopra l'altra, in modo molto repentino, liberando una certa quantità di energia, e questa è una faglia. Una faglia, in sintesi, è praticamente una rottura di una parte di terreno, con spostamento relativo delle due parti, e questo ha generato i terremoti di ieri. Ecco, perché è stato così forte il terremoto? E' stato così forte il terremoto di ieri perché, per diversi motivi, se abbiamo modo di vedere la cartina del DIS, che la INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha messo in onda, a largo delle coste di Fano, tra la costa Pesaro, Fano, Senigallia, abbiamo tre zone sismogenetiche importanti, una più a largo, una mediana, e una addirittura che taglia la città di Fano, sulla costa. Fortunatamente, dico fortunatamente, si è messa in gioco la faglia più lontana. Il primo terremoto, quello che è avvenuto alle 7.07, è stato il più forte, di magnitudo 5,7 gradi, scala Richter, ad una profondità di 8 chilometri sotto il mare e ad una distanza da Fano di 28 chilometri. La seconda scorsa, di qualche minuto più tardi, si è verificata di magnitudo 4, un po' più larga, 10 chilometri più a mare. Per cui questo ci dice che questa faglia qui è una faglia molto complessa, larga una decina di chilometri, e il secondo terremoto ha avuto un ipocentro appena di 2 chilometri di profondità, quindi molto molto superficiale. E questo ci dice anche che questa faglia, oltre a essere complessa e larga, è anche molto profonda. Come si misura un terremoto? Molti ancora confondono la scala Richter con la Mercalli, ce lo puoi spiegare? Sì, sono due scale completamente differenti. La scala Mercalli, di vecchia data, che ormai non usa più nessuno, ci dice, e va come scala da 0 a 12, ci dice i danni che può fare un terremoto, per dire il danno di un terzo grado sarà così, il danno di un quinto grado sarà così. Mentre la scala Richter, che da oggi è tutta accettata e adottata, ci dice invece la cosa più importante, cioè l'energia liberata dal terremoto, cioè quello che fa il danno. La scala Richter va da 0 a, non lo sappiamo, all'infinito. Nella storia geologica del nostro paese si sono avuti terremoti sicuramente anche di grado molto 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 grande, ma non c'era nessuno per documentarli. Il terremoto più grande che si è stato registrato con la scala Richter è stato, se vado a braccio, ai primi del 1900 in Alaska, di 9,6 gradi Richter e ha spostato una porzione di costa di Alaska di ben 7 metri. Dobbiamo convivere, secondo lei, con il terremoto? Si può fare ancora qualcosa? Purtroppo sì, non sapremo mai quando avrà un terremoto, però possiamo sapere, anche lo sappiamo con certezza, quando, quando e how, dove, quando e dove avrà questo terremoto. Dobbiamo prendere delle misure per adattarci a questo, e cioè misure costruttive capaci di sapere resistere a un terremoto. Per questo la regione, insieme con la protezione civile, ha commissionato delle microzonazioni sismiche comune per comune, che sono un validissimo aiuto per le nostre ricerche, per sapere come si comporta il terremoto in quella zona, e anche addirittura di che grado sarà, a seconda della tipologia di terreni. Ma la cosa più importante, secondo me, è fare un passo in più. Noi con il nostro studio lo stiamo facendo da un po', preparare delle nuove carte che prendono in considerazione un altro importante parametro, forse secondo me il più importante, la frequenza di risonanza dei terreni. E mi spiego brevemente. Cos'è la frequenza di risonanza? Un terreno, essendo un corpo solido, se è percorso ad una solarizzazione dinamica, come può essere un terremoto, vibra. Allora, con delle strumentazioni di geofisica, che noi usiamo anche per i ghiacciai, sappiamo definire qual è la frequenza di risonanza di questo terreno, ma anche la frequenza di risonanza del corpo di fabbrica che ci sta sopra, perché anche la casa, in caso di terremoto, vibra. Ora, queste due frequenze di risonanza devono essere diverse. Se io ho un terreno a frequenza di risonanza 5, non posso andare sopra a costruirsi un edificio che ha la stessa risonanza, perché si presenterebbe il fenomeno della doppia risonanza che amplificherebbe la scossa e provocherebbe ancora più danni.